Qual è la verità dietro la relazione tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi? I due ex concorrenti del Grande Fratello sono stati recentemente avvistati insieme in Sicilia, risvegliando l'interesse dei fan. Gli scatti e i video dell'evento sono diventati virali, suggerendo un nuovo capitolo per la coppia. Beatrice Luzzi e Garibaldi, Il ritorno di fiamma. Di recente, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sono stati ospiti di un evento presso un ristorante a Milazzo, in Sicilia. Le immagini e i video condivisi sui social media dai protagonisti mostrano una coppia affiatata, tra sorrisi, momenti intimi con abbracci e balli. Questa sintonia ha fatto pensare a un ritorno di fiamma, quasi ufficiale, tra i due Sul web, i fan non hanno perso tempo a esprimere il loro entusiasmo con commenti come Che belli che siete, un amore unico, e, state facendo la storia I diretti interessati, in particolare l'attrice Beatrice Luzzi, hanno risposto con un post su X, sottolineando il forte legame con hashtag dedicati Il video con la mamma di Garibaldi. Tra i numerosi contenuti condivisi dagli ammiratori, uno in particolare ha catturato l'attenzione. Beatrice Luzzi, che abbraccia teneramente la madre di Giuseppe, la signora Pasqualina. Il video mostra l'ingresso dei due ex GFini nella sala principale del ristorante, accolti da grida e applausi dei fan, seguito dal gesto affettuoso dell'attrice verso la madre di Garibaldi. Questo episodio ha alimentato le voci che suggeriscono come Luzzi, sia ormai parte integrante della famiglia di Giuseppe.